No, no, ascolta, ascolta, lasciamo parlare a me un attimo, qui c'è tanta di quella gente che adesso l'ha finita. Fito! Dei pezzi di parmigiano del caseificio Fratelli Rossi di Rio Saliceto di Reggio Emilia, un altro caseificio socio di Codiretti terremotato, stiamo finendo di etichettarlo se no non ve lo possiamo dare, abbiate pazienza, adesso in una ventina di minuti arriviamo, però anche qua non riusciamo a soddisfare i 20 e quanti minuti. Intanto voi ricordatevi che la beneficenza può continuare, non finirà qua, noi dobbiamo organizzarci, monitorare il territorio, capire chi è riuscito a vendere, chi ha ancora qualcosa da vendere, come fare ad aiutarlo a vendere nel migliore dei modi, perché stiamo agevolando varie aziende, aiutando tutti quelli che riusciamo. Fate un applauso a qualcuno, bravissimo! Allora, chi è che ha l'A61? Chi è che ha l'A62? Perfetto, allora adesso un attimo partiamo con la signora.